Era il 26 ottobre 2017 quando quattro banditi rapinarono una sala slot di Montevarchi, minacciando con una pistola e pestando il titolare, un 48enne cinese. Adesso i banditi sono finiti tutti in manette ad inchiastrarli proprio le scarpe di uno di loro. Questa mattina, infatti, alle prime luci dell'alba, è scattata l'operazione dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno e del nucleo cinofili di Firenze. La banda, armata e avvolto attravisato con un passamontagna, era entrata in azione lo scorso ottobre, poco prima dell'orario di chiusura. Uno dei quattro era rimasto in auto con il motore acceso pronto per la fuga, un altro sulla soglia invece a fare il palo ed infine gli altri due erano entrati nel locale, minacciando il proprietario con la pistola per farsi aprire la cassa ed ottenere così l'incasso. Il 48enne aveva anche provato a ribellarsi, ma ne era nata una colluttazione nella quale aveva avuto la peggio, riportando gravi ferite alla tessa. Il colpo aveva fruttato ai banditi circa 400 euro in contanti. Proprio grazie alle indicazioni che la vittima aveva fornito ai carabinieri, dopo un anno di indagini, i militari sono riusciti ad individuare ed arrestare i malviventi. Ad incastrarli, anche l'intuizione di un giovane carabiniere Montevarchino, che nelle immagini di videosorveglianza aveva notato il particolare di alcune scarpe indossate da uno dei rapinatori, ricordando di averlo controllato qualche giorno prima. In manette sono così finiti due valdarnesi, un albanese ed un cittadino della Repubblica Domenicana, tutti d'età compresa tra i 25 e i 31 anni, residenti nella zona ed alcuni di loro già ben noti alle forze dell'ordine.